Musica Ronde contro i Rom, nuove tensioni a Scampia, dopo il ruogo nel campo nomadi il sindaco di Napoli di Magistris annuncia nuove azioni urgenti dell'amministrazione, ma intanto i cittadini si organizzano, sventata una baraccopoli appoggio reale. Musica Cadavere in bagno, i Nass smentiscono, sul caso Alcardarelli denunciato attraverso i social ora arriva il chiarimento e il governatore De Luca si arrabbia, basta mistificazioni, passeremo alle denunce e lancia la campagna per le vaccinazioni. Musica Mozzarella, guerra sul marchio DOP. La campagna sfida la Pui, accusata di aver violato le norme dell'Unione Europea proponendo la certificazione d'origine della mozzarella di Gioia del Colle. Alfieri avverte, pronti a ogni azione per tutelare le nostre produzioni. Musica Acqua si aggrava la crisi a Salerno, da questa notte rubinetti a secco anche nella zona occidentale, nel centro città. Disaggi per la Movida, società di gestione comune fanno appello ai commercianti che vedono a rischio i propri affari. Avellino, la vergogna dell'ex scuola media. Chiusa da quattro anni e ormai diventata un altro gigante malato della città, l'ex Dante Alighieri di Avellino è abbandonata all'incuria, tra degrado, rifiuti e carcasse di animali, la rabbia dei residenti. Incendi nel Sannio, interventi triplicati. Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento traccia un bilancio e lo fa anche per mettere a tacere le polemiche messe in piedi dai sindacati. I nirpini a rischio i vigneti del greco di Tufo. Buongiorno e ben ritrovati con la nostra informazione. Poggio reale ronde contro l'accampamento Rommi, residenti del rione Luzzati. lanciano l'allarme e chiamano la polizia. I nomadi volevano occupare il campo sportivo abbandonato. Intanto il comune di Napoli assicura nelle prossime ore interventi decisivi per lo sgombero del campo Romm di Scampia. Il servizio è di Rossella Strianese. Per la seconda volta in due settimane hanno sventato l'occupazione del campo sportivo appoggio reale. Li hanno visti dai balconi mentre i Romm accatastavano in legno per costruire nuove baracche e hanno chiamato polizie e vigili urbani. Sono scese in strada minacciose fino a quando gli agenti non hanno portato via tutto e identificato i nomadi che avevano tentato di prendere possesso dell'area. I residenti del rione Luzzati hanno deciso di difendere così il loro quartiere. Ma non chiamatele ronde, chiede il presidente municipale Giampiero Perrella. Quella parola ha un'accezione negativa. Di fatto però sono squadre di sorveglianza spontanee ronde per tenere lontano i Rom dal palazzetto dello sport. Su quest'area nel comparto orientale del centro direzionale deve sorgere un grande parco urbano, Agora 6, con un project financing di 300 milioni di euro. Un primo tentativo dei nomadi di occupare l'area antistante l'impianto è avvenuto il giorno prima di ferragosto e subito venne sventato dalla segnalazione delle ronde. Intanto, dopo il rogo del campo Rom di Scampia, si è riunito il comitato per l'ordine pubblico in prefettura per decidere come procedere con lo sgombero dell'area, su cui insiste già un provvedimento della magistratura. 600 persone in un degrado assoluto che dovranno essere spostate nei prossimi giorni. De Magistris assicura interventi immediati. Adesso la priorità assoluta in queste ore è la verifica di interventi immediati nell'area interessata dall'incendio. Non più in una questione di, chiamiamolo tra virgolette, sgombero per come ipotizzato dall'autorità giudiziaria, ma si tratta di verificare altri tipi di interventi da mettere in campo. E credo che nelle prossime ore ci saranno delle novità importanti. E Nass smentiscono la notizia del ritrovamento del Salma nel bagno del Cardarelli. Intanto De Luca accusa, basta bugie sull'ospedale di Napoli. La rabbia del direttore Verdoliva è tutto falso. Simonetta Iappariello. È corretta la versione della direzione generale dell'ospedale Cardarelli di Napoli sulla vicenda del cadavere che, secondo la parente di una paziente ricoverata, sarebbe stato lasciato per diverse ore in una zona di passaggio di un reparto, nei pressi di un bagno. E quanto hanno verificato i carabinieri dei Nass? L'ospedale ha sostenuto da subito che la Salma non era mai stata appoggiata nel bagno, come incautamente riportato, né tanto meno per tre ore. Il paziente, come sempre accade al Cardarelli, ha ricevuto il massimo rispetto nella malattia e purtroppo anche nella morte. Secondo la direzione, la Salma non sarebbe stata dunque lasciata in spazi di passaggio dei pazienti. L'area in questione è inibita ai degenti ed è riservata esclusivamente al personale. La Salma è stata poi prelevata alle ore 10.50 e trasportata subito all'obitorio. Lo ha detto il direttore Verdoliva, che è molto amareggiato per quanto accaduto. I Nass hanno certificato e non sapevo che fossero arrivati, continua Verdoliva, la correttezza delle procedure e l'umanità con la quale sono state attuate. Altro che Salma abbandonata. Lì un posto per addetti ai lavori, nessuno poteva accederci. In serata, la sferzante dichiarazione del presidente De Luca. Sul Cardarelli, troppe bugie che offendono chi lavora. Da adesso saremo inflessibili contro chi crea o rilancia notizie false. Patto scuola ASL per vaccinare 90.000 alunni in tutta la campagna. Oggi la firma del protocollo regionale e gli istituti potranno attingere direttamente alle banche dati della sanità. Obbligo vaccinale. I tempi per mettersi in regola per le famiglie della campagna ci sono. Entro il 10 settembre si può consegnare l'autocertificazione sui vaccini già fatti o il libretto delle vaccinazioni. In tutto sono 90.000 i piccoli studenti che devono produrre la documentazione. ASL e istituti scolastici sono pronti. Le prime dovranno far fronte alle richieste di vaccini da parte delle famiglie. Le seconde dovranno controllare che i certificati ci siano e che i ragazzini siano in regola. La regione Campania ha illustrato oggi i dettagli dell'accordo con l'ufficio scolastico della Campania. A firmare il protocollo l'assessore Lucia Fortini e il provveditore francese. A disposizione delle scuole la banca dati della sanità. I dirigenti scolastici segnalano alla regione l'elenco degli iscritti. La regione verifica i bambini che sono in regola e comunica all'autorità scolastica un bollino verde, cioè i bambini che non devono avere altri obbrighi. Per quanto riguarda i bambini che risultassero non vaccinati, le ASL manderanno una comunicazione alle famiglie invitandole presso le ASL, fissando un calendario. Sul sito della regione nei prossimi giorni ci sarà una documentazione anche per fare l'autocertificazione di avvenuta vaccinazione. Credo che abbiamo semplificato molto il meccanismo. Chiediamo a tutti una mano per sensibilizzare le famiglie a vaccinare i bambini. La poliomierite o la tubercolosi si riaffacciano perché sia abbassata oltre la soglia di sicurezza la soglia di vaccinazione dei bambini. Dunque nessun allarmismo, nessuna drammatizzazione, ma bisogna avere senso di responsabilità. Scoppia la guerra per la mozzarella tra Campania e Puglia. Tutto nasce dalla proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta mozzarella di Gioia del Colle, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 agosto. Oggi la regione Campania annuncia che si opporrà fermamente poiché ritiene che la denominazione proposta violi quanto stabilita in materia della normativa europea. La denominazione in questione è infatti in parte omonima a quella della DOP mozzarella di bufala campana, nome già iscritto nel registro stabilito a norma dell'articolo 11 del regolamento dell'Unione Europea, spiega Franco Alfieri, consigliere del presidente della regione De Luca per l'agricoltura, foreste, caccia e pesca. Da questa notte rubinetti a secco anche nella zona occidentale, nel centro di Salerno. La crisi idrica non dà tregua, i disagi si estendono a tutto il capoluogo, disagi per la movida, società di gestione comune fanno appello a commercianti ed esercenti che vedono a rischio i propri affari. Giovanni Battista Lanzilli. Non è il momento delle polemiche ma della responsabilità, facile a dirsi, meno a farsi dal momento che da stanotte non solo i residenti ma anche i commercianti e le attività di ristorazione del centro di Salerno hanno fatto i conti con lo stop all'erogazione idrica. Un provvedimento necessario per il perdurare della siccità, finora riservato solo alla zona orientale del capoluogo, ma che adesso si estende a tutta Salerno, movita a rischio ed esercenti preoccupati. Ma io confido molto nel senso di maturità che i commercianti salernitani dimostreranno. È di tutta evidenza che sono tanti mesi che non piove e quindi i serbatoi chiaramente sono a secco. Dobbiamo anche ringraziare la Salerno Sistemi perché facendo uno sforzo per tutto il periodo estivo la zona occidentale non è stata proprio intaccata. Capisco che le attività sono quelle più interessate, ma dobbiamo fare una scorta nei serbatoi, vuol dire che molti locali hanno, dobbiamo fare unione comune e credo che in pochi giorni la situazione di emergenza possa passare. Abbiamo sempre, anche per spiegare a chi si è lamentato che ci fosse una città di serie A e di serie B, non è assolutamente questo e che noi avremmo voluto sicuramente evitare queste chiusure perché le chiusure avrebbero potuto portare delle conseguenze negative. Sapevamo bene che prima o poi l'avremmo dovuto fare. Per questa ragione anche in questa ventina di giorni, da quando lo abbiamo iniziato a dire, da quando lo abbiamo fatto, abbiamo iniziato a fare dei piccoli interventi di rafforzamento nelle zone che noi ritenevamo fossero più critiche. Chiusa da quattro anni e ormai diventata un altro gigante malato della città, la scuola media Dante Alighieri di Avellino è abbandonata all'incuria tra rifiuti e carcasse di animali. Irbacce, rifiuti, carcasse di animali è lo scenario che circonda la scuola media Dante Alighieri di via Piave ad Avellino, chiusa ormai da quattro anni. Oggi l'edificio è diventato un altro gigante malato lasciato all'incuria e all'abbandono. I residenti ma anche i commercianti hanno più volte lanciato appelli al comune affinché venga fatta rinascere la scuola e con essa tutta la zona. Non si può ottenere uno stabile così abbandonato. Ci entrano anche le persone, soprattutto gli extracomunitari che fanno solo danni perché la rovinano dentro, fuori. Dove mancano le attività o scolastico, infrastrutture e danno la città muore. Commercialmente la zona è proprio morta, infatti siamo rimasti pochissimi commercianti. Quando si dice che non ci sono soldi, io vengo più che non ci sono idee, o non c'è interesse. A un momento io non sono riuscito a capire qual è, i commercianti che oramai siamo alla deriva. L'apertura di una scuola è importante sia per il commercio o per revitalizzare la zona? Sicuramente, per il commercio, per la città, per i rioni, che è un gran rioni, questo è un rione piccolo. Dopo tanti anni questa scuola era un punto di riferimento per questa strada, quindi sai, quando si parlava di questa tanda alighiera era un punto bellissimo. Poi hanno asfaltato la Corea e hanno chiuso la scuola. Se uno la vorrebbe riaprire deve fare tanti lavori che comunque si vanno spendendo molti più soldi di come si potevano anche evitare di spendere. E sono più che triplicati nel Sannio gli interventi dei pompieri per gli incendi appiccati nei boschi. Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco del Sannio traccia un bilancio e lo fa anche per mettere a tacere le polemiche messe in piedi anche dai sindacati. Il servizio di Alessandro Fallarino. Ha voluto ringraziare tutti i Vigili del Fuoco che non senza difficoltà ormai da settimane e settimane sono costretti a fare i conti con gli innumerevoli incendi appiccati nel Sannio. Una conferenza stampa non certo usuale ma doverosa, ha spiegato il comandante provinciale dei pompieri di Benevento, Michele Di Tullio, che oggi ha voluto fare il punto della situazione. Più che triplicati gli incendi di boschi e sterpagli rispetto all'anno scorso. Siamo stati autorizzati a raddoppiare i turni in alcuni periodi, tipo questo, e a richiamare il personale fuori servizio per poter sopperire a queste carenze. Però penso che il risultato è vero, il risultato è abbastanza efficace, efficiente, purtroppo contro una natura che ci sta devastando, aiutata dall'uomo che sta danneggiando se stesso e il mondo che lo circonda. I numeri parlano di oltre 1.395 interventi. L'ingegnere Di Tullio ha anche risposto ai sindacati, in particolare al Conapo, che da giorni lamenta la coerenza di personale, talvolta anche le minime condizioni di sicurezza. C'è qualcuno che vuole ergersi a primo della classe, magari è quello che vuole rilasciare per primo, rilascia interviste. Io sto cercando di sopperire, ripeto, tutte quelle sono le carenze e pensiamo di averlo fatto abbastanza bene. Sono stati primo a dire al Ministero, guardate che qui Benevento sta andando a collasso, perché non c'è personale. Vigneti del Greco di Tufo salvati in estremis, strada per il Valo Lauro chiusa al traffico, fiamme sul raccordo autostradale, Montevergine e Faliesi. Ancora un bollettino nero, quello del genio civile di Avellino, che ieri ha lottato contro i roghi che stanno distruggendo il verde dell'Irpinia. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Santa Lucia per spegnere le fiamme sotto i pregiati vigneti e fortunatamente non hanno raggiunto le piante del greco DOC-CG. L'esame del DNA scagionerebbe l'indiziato principale del sindaco Vassallo Bruno Umberto Damiani. Gli investigatori vagliano il coinvolgimento però di altre 94 persone, mentre c'è chi accusa il brasiliano ha pagato un accanimento ingiustificato. Vediamo il servizio di Sara Botte. Non si fermano le indagini sul delitto Vassallo, a pochi giorni dall'anniversario della morte del sindaco Pescatore. Ora che sembra che il test del DNA abbia scagionato l'indiziato numero 1 Bruno Umberto Damiani, che si è sempre detto innocente, gran parte delle attenzioni degli investigatori si concentrano sulle altre 94 persone di Pollica e Acciaroli, sottoposte all'esame genetico. Chi era presente la sera del 5 settembre del 2010 a Pollica, chi ha esploso i 9 colpi di pistola che hanno ucciso Vassallo. Gli inquirenti dovranno dirlo entro gennaio. Nel 2018 scade infatti la proroga del processo. Intanto Antonio Pisani, sindaco del comune cilentano, ha ultimamente ammesso di aver nutrito sempre molti dubbi in merito alla colpevolezza di Damiani. Lancia accuse invece l'ex sindaco di Montecorice, Giuseppe Tarallo. Il brasiliano ha pagato un accanimento ingiustificato, merita delle scuse, salvo che non venga accertato il suo coinvolgimento. Non si esclude infine la pista della Camorra. Si teme che Vassallo abbia visto qualcosa nel giro di spazio di droga della zona. Intanto sono pronti ad Acciaroli tre giorni di commemorazione, per non dimenticare Angelo, il 3, il 4 e il 5 settembre, serata clou con una messa solenne e una fiaccolata. E giallo da Tripalda, i gnoti nella notte si sono introdotti nel comune, mettendo a segno un raid nell'ufficio tecnico. Si indaga. Qua che vede i segni delle mani vicino, questa impolverata, che adesso è stata chiusa, ma più o meno era aperta più, l'avevano forzata prendola un pochettino più di quella là e si sono infilati attraverso la finestra. E giallo sul misterioso raid messo a segno la scorsa notte nell'ufficio tecnico del comune di Atripalda, in provincia di Avellino. I gnoti, approfittando del buio, si sono introdotti all'interno dell'edificio di piazza Municipio, forzando una finestra al piano terra dello stabile. I ladri o presunti tali si sono portati direttamente negli uffici dei funzionari che si occupano di urbanistica. Al momento non è stato accertato nessun furto. Apparentemente non sarebbero stati portati via documenti o faldoni, ma saranno necessarie delle verifiche più accurate. Qualche carta a terra, non più di tanto, e poi hanno mosso qualche penna, delle chiavi buttate qua a terra e hanno staccato qualche presa dai computer, niente di che. Sicuramente è più un atto di qualche balordo che un atto proprio mirato a rubare qualche documento. Intanto il sindaco di Atripalda, Giuseppe Spagnuolo, ha presentato denuncia contro i gnoti recandosi presso la sede della locale Pulizia Municipale. La preoccupazione del primo cittadino è che qualcuno abbia potuto mettere le mani su importanti atti e documenti per lo sviluppo urbanistico della città. Un piccolo pensiero per una splendida città, così Diego della Valle a Benevento per assistere all'illuminazione artistica dell'obelisco egizio, da lui finanziata il servizio di Maria Teresa De Lucia. Benevento è bellissima, l'ho visitata e Clemente mi ha fatto subito pagare il biglietto. Comincia con una battuta la visita di Diego della Valle in città per assistere all'inaugurazione della nuova illuminazione artistica dell'obelisco egizio di Piazza Papiniano, finanziata proprio dal patron di Tods con la somma di 25 mila euro. Sono stato qui l'altra volta e mi ha chiesto se potevamo fare qualcosa per la città, c'era da fare l'illuminazione dell'obelisco, l'abbiamo fatta volentieri, ma sono un piccolo pensiero per una bella città come questa. Dovete farla vedere il più possibile, fare manifestazioni come queste, portare gente, è veramente una bella città. Un progetto voluto dal sindaco Clemente Mastella e affidato al light designer Filippo Cannata. Abbiamo impiegato una tecnologia in questo momento inedita, ci sarà una lettura iconografica, diciamo così, che manterrà, che enfatizzerà e valorizzerà il monumento e ce ne sarà un'altra invece che consentirà a tutti i giovani visitatori, giovani della nostra città, i turisti, di scrivere il proprio nome in italiano e di vederselo tradotto in geroglifico sulla facciata di Palazzo Paolo V. Nelle intenzioni del primo cittadino c'è anche una migliore valorizzazione di Ciro, il fossile di baby dinosauro conservato nella sede della soprintendenza. E proprio il soprintendente, Salvatore Buonuomo, ha ricordato che l'obelisco gemello a quello di Piazza Papiniano è volato a Los Angeles in prestito per una mostra del Getti Museum. Si lavora dunque per far proiettare in quell'occasione un cortometraggio su Benevento e la cultura egizia. E andiamo ad Avellino. Luca Cipriano e l'Associazione Ossigeno hanno presentato al Circolo della Stampa il contenitore delle idee per il rilancio della città. Vediamo. A due mesi dalla presentazione del progetto, l'Associazione Ossigeno, che raccoglie quasi 400 avellinesi, ha presentato le prime 50 idee proposte direttamente da soci e cittadini per il rilancio del capoluogo irpino. Il contatore delle idee è stato presentato stamane al Circolo della Stampa di Avellino. Per Luca Cipriano, referente dell'Associazione, la città è ferma, bloccata su grandi problemi che da anni non trovano soluzione. Una serie di proposte, lontani dal gigantismo, dalle grandi opere, dai grandi cantieri, che purtroppo non si riesce a concludere, ma una serie di proposte che hanno come obiettivo comune il miglioramento quotidiano della qualità della vita. La città non funziona, è sotto gli occhi di tutti, i disservizi sono tanti e notevolissimi. Le 50 idee che abbiamo presentato hanno alcune caratteristiche. Sono idee a basso costo, si possono realizzare in tempi brevi, tutte ricadono sulla qualità della vita dei cittadini. Inevitabile è un passaggio sulle prossime amministrative del 2018. Ossigeno sarà in campo, ma non si trasformerà in una lista civica. Ossigeno come associazione non ci sarà, non sarà una lista civica, lo abbiamo detto dall'inizio e lo ribadiamo oggi, ma Ossigeno raccoglie ad oggi 400 avellinesi e tra questi 400 avellinesi c'è chi ha voglia di cimentarsi in politica. Quindi sicuramente una parte di noi probabilmente ci saranno e valuteremo in quale contesto, in quale scenario, ma con l'obiettivo unico di provare a offrire finalmente qualche soluzione in una città che oggettivamente non funziona. Una manifestazione privata che con soldi pubblici alimenta le clientele deluchiane a Salerno in opposizione all'attacco sul Fanta Expo, la fiera del fumetto e dell'animazione in programma al Parco dell'Irno. Vediamo. Dopo il villaggio di Babbo Natale durante Lucida Artista, un altro evento finisce nel mirino dell'opposizione consigliare di Salerno. Roberto Celano e Ciro Russo Mando attaccano l'amministrazione sul Fanta Expo, la fiera del fumetto e dell'animazione in programma a settembre al Parco dell'Irno. Per gli esponenti del gruppo attiva Salerno ci sono troppe ombre sulla gestione e, soprattutto, il sospetto che si tratti dell'ennesima operazione clientelare. L'utilizzo gratuito del Parco Pinocchio, degli spazi, vendono gli istendi, non pagano nulla al Comune. Si tratta di un'operazione di tipo economico per cui il Comune non ha alcun vantaggio commerciale perché a noi risulta che fino all'anno scorso non avrebbero neppure pagato la TOSAP sui gazebo che comunque vanno a installare e vanno a vendere. Anche su questo chiederemo conto. La cosa grave è che oggi hanno indetto il 28 la convenienza stampa per il primo settembre ma ad oggi non c'è ancora la istanza per la richiesta degli spazi da parte dell'OTACO di questa associazione e non c'è ancora una delibera di giunta che autorizza all'utilizzo degli spazi. Si ha quasi la sensazione che in questa città sono i clienti, sono gli amici degli amici a decidere per l'amministrazione. Vogliamo che il Comune non ci rimetta ma magari ci guadagni qualcosa perché non possono essere i contribuenti salernitani chiamati poi a pagare con le tasse più alte d'Italia le clientele di una dinastia. Come consigliere di opposizione non contestiamo il profilo culturale della manifestazione ma i criteri di affidamento gestionale ed organizzativo sulla cui trasparenza vigileremo con rigore nell'interesse della città. 15 anni fa la tragedia dei kurdi morti all'interno di un tir in Irpinia durante l'ennesimo viaggio della disperazione. La CGL non dimentica la sciagura e striglia le istituzioni. Erano quelle le prime avvisaglie di un dramma in migrazione oggi divenuto incontrollabile. Gianni Vigoroso. Morirono asfissiati all'interno di un tir era il 31 agosto di 15 anni fa quando quest'area di servizio dell'autostrada Napoli-Baria-Mirabella-Eclano divenne teatro di morte. Tutti giovanissimi rotollarono a terra uno dopo l'altro senza vita qualcuno si salvò un viaggio della disperazione finito in tragedia erano le prime avvisaglie di un dramma in migrazione esploso in tutta la sua grandezza e divenuto oggi incontrollabile. Noi già allora denunciamo che era l'avvio di una fase che tutte riuscivano a capire mentre l'istituzione oggi non l'avevano ancora capita. Fu il preannuncio di questa immane tragedia che oggi siamo vivendo con estrema drammaticità e con estreme contraddizioni perché sono cambiati anche i tempi. Io mi ricordo che all'epoca c'era una grande solidarietà di questo povero oggi invece cominciano a venire fuori le prime discrepanze di questo povero sono cambiati i tempi. Oggi noi possiamo dire che nella nostra provincia ci sono all'incirca 2.500 immigrati sparsi su 68 centri e qui voglio evidenziare un dato su 32 comuni su 32 comuni quindi non è che c'è questo super rafforzamento c'è un problema di sovrappopolamento e sovradimensionamento in alcuni comuni mentre se noi facciamo un'accoglienza diffusa diffondendolo per i vari comuni c'è la possibilità è una capacità di una nuova qualità dell'accoglienza se noi la gestiamo e la governiamo in una maniera nuova. Benevento città spettacolo arbore incanta la piazza e invece stasera si chiude con la cena in bianco C'è che l'onda che di giorno si suda alla notte no rispondereva a Picasso io di giorno mi scasso alla notte no tra in suo arbore l'orchestra italiana ed è subito festa il concerto ha coinvolto la piazza gremita mettendo il sigillo alla 38esima edizione di Benevento città spettacolo dal piccolo schermo alle più belle canzoni partenopee pronti a strizzare l'occhio ai ritmi del mondo e senza rinunciare alle canzoni della tv che hanno fatto ballare tutti da luna rossa alla vita è tutto un quiz da malanotte avvengo dopo il tg sono volate via tre ore fitte fitte di spettacolo grande coinvolgimento del pubblico come nelle intenzioni del sindaco Clemente Mastella che contro chi lo accusa di aver snaturato città spettacolo tuona io c'ero 39 anni fa abbiamo inventato Gregoretti a Benevento la formula di Gregoretti abbiamo inventato a Pietrantoni il sottoscritto è Gregoretti la cultura di 10 persone i fratelli i figli le sorelle non mi piace è una cosa diversa che non mi piace non mi ha mai attratto io sono un popolare Renzo Arbore 80 anni compiuti il 24 giugno scorso sfodera tutto il suo fascino da grande mattatore riunisce un'orchestra davvero speciale fino al gran finale era l'ultima notizia il Tg termina qui grazie di averci seguito ora ci sono le previsioni medio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.